Il 26 di gennaio il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, inaugurerà una grande opera pubblica della città. Si tratta di un ponte, un ponte che è stato costruito sulle rive del fiume che fino a qualche mese fa vedeva alloggiato i cosiddetti Rom, comunque quella parte di società più emarginata. A quei Rom è stata data un altro tipo di collocazione, per certi aspetti più degnitosa di quella che aveva sulle rive del fiume e su quella rive del fiume Cosentino nasce questo ponte e con esso viene ridisegnata tutta l'area urbana. Il ponte chiaramente è una imponente opera pubblica, architettonicamente molto bella e il sindaco ha voluto addirittura presentare l'evento inaugurativo a Roma. Chiaramente la polemica politica in furia, c'è una parte che si è schierata apertamente contro, altri contestano i fondi che sono stati utilizzati. Tuttavia questa è un'opera pubblica pensata, figuratevi, ai tempi di Mancine. A Mario Chiuto va dato indubbiamente il merito di aver accelerato il tutto e di consegnare alla città questa grande opera pubblica, una delle più grandi opere pubbliche realizzate nel Mezzogiorno. Al di là delle critiche, al netto delle critiche delle strumentalità politiche, non si può non registrare il fatto che questo ponte per la sua architettura, per come è stato disegnato, per la sua imponenza, per alcune sue caratteristiche, è destinato a rappresentare e a divenire un pezzo identitario, identificativo della città di Cosenza, così come altre grandi opere pubbliche in altre città europee hanno fatto la storia, a partire dalla stessa Tour Eiffel o altre opere legate a determinati momenti della storia di grandi città europee. Io ritengo che quello che avverrà con l'inaugurazione e anche la realizzazione di quest'opera sia un fatto positivo per la città. La polemica politica ci sarà sempre, chi sarà contro e chi sarà a favore è una corrente di pensieri che va avanti fin dai tempi dei Welfi e dei Guibellini. Quando una cosa è positiva per la storia architettonica di una realtà va registrata e noi cronisti abbiamo il dovere e anche l'onestà intellettuale di riconoscere quando un'opera può rappresentare un momento simbolico per una comunità. Il merito che va dato a Mario Chiuto è che non solo questa ma anche con altre opere è riuscito a creare aspetti simbolici e identitari di rinascita, quasi di rinascimento della città di Cosenza che non la si ricordava forse dai tempi dello stesso Giacomo Mancini. Chapeau dunque a Mario Chiuto, sindaco di Cosenza.